Benvenuti nel ristorante Stern & Taufel da Niederscherli, lungo la tratta Berna-Schwarzenburg. Il ristorante, a carattere familiare, è gestito dal 1995 da Silvia e Giovanni Alfano, che si sono specializzati in particolare nella cucina italiana a base di prodotti freschi. Dal giovedì al sabato è servito un ricco buffet di antipasti, preparato con tanto amore dallo chef Giovanni Alfano. Oltre agli antipasti, ama anche preparare la pasta fatta in casa, di cui fornisce molteplici varianti, dimostrando la stessa passione anche nella preparazione di secondi piatti e dolci, classici e creativi. A Giovanni Alfano non piace presentare ai propri ospiti un unico menù, ma lo chef è sempre felice di sperimentare. Ogni piatto viene preparato solo quando l'ordinazione arriva in cucina. Utilizzando esclusivamente prodotti freschi, comprenderete sicuramente che la preparazione di ogni piatto richiede il tempo necessario. Inoltre, presso lo Stern & Taufel, attento alle esigenze delle famiglie, il mercoledì e la domenica sera sono sempre serviti pizza e pasta di ogni tipo. Venite a trovarci e assaporate la nostra cucina creativa e variegata!